Parco stupendo, fruibile, è un impegno anche economico per l'amministrazione perché ha visto una cifra di oltre 300 mila euro con un contributo anche del GAL di 130, tuttavia non l'abbiamo ancora concluso perché su sollecitazione di vari cittadini stiamo ampiando i giochi per i ragazzi più grandi, quindi nell'area più a nord del parco stesso, per adesso abbiamo fatto anche un piccolo percorso per le bike, per i più piccoli, diciamo tanto decoro, un polmone sano per Camuscia e per tutto il paese, chiaramente ripeto questo si rifarà anche a un progetto molto più ampio che vedrà una nuova piazza Sergar di parcheggi in Camuscia, nuova viabilità, insomma ci puntiamo molto, Camuscia ha bisogno di essere davvero riqualificata, è da troppo tempo che sta diciamo ferma nelle riqualificazioni, è un paese che non può diventare un dormitorio ma a livello anche commerciale deve avere uno slancio e quindi un input molto importante.